Questo film d'animazione è meraviglioso e dovete assolutamente vederlo Ciao a tutti, sono Marta Subi e benvenuti in un nuovo video Benvenuti in un video in cui vi parlerò di un film d'animazione di cui tutti stanno parlando che è il cinema E no, non è quel film d'animazione a mente in italy Questo è bellissimo e vi consiglio assolutamente di guardarlo e dargli un'opportunità Sto parlando del robot selvaggio Oh mio Dio, quanto mi è piaciuto Prima di iniziare se vi vuoi supportare il mio canale potete farlo con un like, con un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale Mi aiuta tantissimo, pubblico un sacco di video e potete supportarmi anche scrivendo un commento Oppure seguendomi su Instagram e TikTok dove anche lì vi parlo tantissimo ma tantissimo di cinema tutti i giorni in continuazione Inoltre potete supportarmi anche utilizzando il mio codice di pampling, il codice sghicio Se vi va, vi piace il mio canale, utilizzate il codice sghicio quando comprate qualcosa ed è un codice affiliato Quindi voi ricevete un paio di calze in omaggio e io una percentuale, quindi grazie mille davvero Ma inizio solo a parlare del robot selvaggio Il film esce nelle sale il 10 e racconta la storia di Rose Ovvero un robot che è all'interno di una nave, questa ha un incidente, naufraga e quindi questa scatola arriva su una spiaggia Lei si ricompone, si attiva e boom E tenta di trovare all'interno della foresta chi è che l'ha acquistata Perché è un robot domestico che quindi aiuta le persone Ma all'interno della foresta nessuno l'ha richiesta Così lei tenta di tornare diciamo al quartiere generale per essere risistemata e rimessa a posto E solo quando tenterà di farlo qualcosa andrà sorto, non riuscirà più a ricontattare il centro di controllo E quindi finirà purtroppo su un nido Purtroppo nessuno sopravvive, a parte un uovo Rose si prende cura di questo uovo e fino a che non nasce un anatroccolo E lei lì farà di tutto per portarlo fino all'indipendenza diciamo E quindi a volare Come andrà a finire il film? Non vi dico nulla Per me è un tanto tanto carino ma parliamone Parliamo subito nel dettaglio del film Prima di vederlo sinceramente io credevo che fosse una sorta di gigante di ferro Ma il gigante di ferro lo vedi solamente da piccola Quindi non l'ho più rivisto da adulta E all'epoca non mi era piaciuto un granché, vi dico la verità Poi magari se lo vedo adesso ne capisco la qualità Però da piccola vedevo solamente i miei gusti In realtà questo secondo me non ha tanto a che fare con quel film È super super interessante Bello ed è uno di quei film che secondo me Punta anche molto sul tentare di mandare messaggi sensati ed educativi ai più piccoli Questo film mi ha conquistata totalmente E come sapete io ho un po' di problemi con l'animazione Non lo so, ha un codice che non faccio subito click Questo film mi ha letteralmente conquistata Sono uscita dall'anteprima dove non sono riuscita a trovargli nemmeno un difetto Mi è piaciuto tantissimo La cosa che mi è piaciuta di più La direzione artistica è meravigliosa Noi anziché avere questi blocchi di colore Oppure la voglia di avere una texture reale Che replica la realtà Noi abbiamo praticamente questo film Che è pennellate di colore Avete presente le pennellate e le campiture Che voi vedete grumi del colore ad olio Esattamente così È meraviglioso C'è proprio una visione artistica Dove noi quello che vediamo sembra quasi un quadro Per quanto riguarda sia la composizione La composizione cromatica E la cosa che mi è piaciuta di più sinceramente è la palette La palette cromatica è bellissima La maggior parte del film si svolge proprio all'interno di questa foresta E ovviamente visto che siamo lì nelle fasi della vita ci saranno anche le stagioni Che avranno un grande ruolo per scandire il tempo ma anche a livello visivo Questa foresta che noi vediamo la neve Le foglie marroni dell'autunno La primavera È meravigliosa Meravigliosa Si cerca di optare più per dei colori quasi vicini a un quadro Piuttosto che semplicemente colori molto saturi Per istigare l'occhietto del bambino Anche queste pennellate aiutano molto a creare Questo ambiente che non è piatto Ma pieno di dimensioni Esteticamente è bellissimo La cura verso questa ambientazione Questi paesaggi secondo me è meticolosa È davvero tanto curata Tanto che la foresta stessa diventerà un altro personaggio all'interno del film L'ambiente naturale ovviamente farà da contraltare A un altro argomento che vedremo qui nel film E ne parleremo nella parte spoiler È molto misurata anche la gestione dei colori Perché noi abbiamo tutta questa colore quasi da quadro Ma allo stesso tempo successivamente si inserirà all'elemento neon L'elemento neon notturno Come viene gestito? Bellissimo, bellissimo, bellissimo In maniera molto misurata La gestione anche della parte luci Che non è semplicemente la parte realistica O la parte da cartone animato Ma è veramente un elemento che viene utilizzato Quasi come se fosse un quadro Mi ha ricordato tantissimo proprio la parte pittorica Un'altra cosa interessantissima del film È la regia e il montaggio La regia e il montaggio puntano tantissimo sulla dinamicità Quindi appena noi entriamo nel film È subito estremamente dinamico Proprio queste botte risposte Questi movimenti continui Movimenti di macchina Movimenti del personaggio Estremamente dinamico Che nel finale sarà effettivamente action Noi abbiamo una regia nel finale Che sembra quella di un film action Bellissimo, perfetto per mantenere l'attenzione dei più piccoli Bello, bello, bello Fatto bene Non semplicemente confusionario Non semplicemente che ti deve prendere l'attenzione Ma fatto bene in maniera fluida Ma allo stesso tempo che arriva il risultato Mi sono piaciute anche le musiche La colonna sonora è un po' quella vecchio stile Che a me piace molto nei cartoni animati Una colonna sonora di commento Che va ad accennare anche a livello sonoro Quelli che sono i movimenti Le cose che succedono sullo schermo Bello, bello, bello Una pratica che c'era molto nei vecchi film Disney Però io ultimamente Non vedo tantissima animazione per carità L'ho trovata molto meno nei film d'animazione A me piace molto Oltre dal punto di vista estatico Però secondo me questo film È un piccolo gelino Anche per quanto riguarda il messaggio È tratto da un film Proprio destinato all'infanzia E si vede proprio che ha Tanti contenuti Che sono rilevanti E belli corposi L'obiettivo è diventare un messaggio educativo ai bambini E mi piace anche il fatto Che questo film Abbia l'intanto di parlare ai bambini Perché ultimamente io ho visto l'animazione Che anche per una questione di target Visto il basso tasso di nascite Eccetera eccetera Ovviamente fare dei prodotti per bambini Vuol dire parlare a un target piccolissimo Che poi fa soldi Perché i bambini vengono accompagnati da qualcuno Non vanno da soli al cinema Però ultimamente ho notato Questo mondo dell'animazione Che a volte vuole fare questi film un po' ibridi Vuole far finta di parlare ai bambini Ma allo stesso tempo Fa dei film per adulti Che anziché affrontare le tematiche per adulti Che sono profonde Molto spesso si etichetta per adulti Semplicemente perché è un film Apparentemente per bambini Ma con lì nel mezzo Nascosta delle battutine a sfondo erotico Che sinceramente è una roba che a me non piace Lo trovo sempre un po' cringe Questo film fortunatamente non è così Ha delle battute anche per adulti C'è tutta la parte Le battute sulla maternità Per esempio questa maternità Della mamma o postum Che sono molto divertenti Però non è quella roba cringe onestamente Tutto il resto del film Ha l'obiettivo proprio di parlare ai più piccoli Di tentare di creare qualcosa per i più piccoli E l'ho trovato molto molto bello Il film è trasversale Perché ovviamente parla della genitorialità Quindi sicuramente i genitori si potranno vedere E fare il piantino Identificandosi con il ruolo genitoriale E i bambini si possono identificare In tanti altri messaggi che vengono dati nel film All'inizio del film c'è Rose Che piumba all'interno di questa foresta Ed è disorientata, fuori luogo E viene etichettata come un mostro Perché è diversa È un robot all'interno di animali della foresta Gli animali la isolano, la attaccano Lei continua a dire Ma non mi ha ordinato nessuno E si percepisce proprio il senso di isolamento Di non appartenenza, di solitudine Tutti i sentimenti dove Secondo me un bambino può benissimo Identificarci Perché è molto probabile Che un bambino prova queste sensazioni Secondo me il mondo degli adulti Molto spesso vede l'infanzia In una maniera molto bucolica Ma l'infanzia è un momento estremamente Brutto per i bambini Se è un momento dove nessuno ti capisce Hai dei desideri Dei bisogni che molto spesso Non vengono compresi Che molto spesso fatichi ad esternare Non vieni preso sul serio Nelle tue richieste E molto spesso sei solo Non hai a che fare con persone come te Hai a che fare con persone estremamente grandi Che non capiscono Ti malinterpretano Non sono dei tuoi coetanei E quindi è molto più probabile Tu provi della solitudine Quando sei piccolo Circondato Così Rispetto a quando sei un adulto Un altro argomento Che viene approfondito nel film È anche l'argomento Della famiglia Della cooperazione Nonostante sia diversa Nonostante sia obiettivi differenti Il senso proprio del gruppo Bisogna collaborare Perché così fa la forza Secondo me anche questo È un argomento molto utile Per i bambini Molto educativo Sul senso dell'amicizia Non escludere magari Il bambino che sembra differente Robo così Ma proprio nel includere tutti E anche qui è importante Se tu fai un film per bambini È importante che ci sia qualcosa Dentro oltre la risata Questo andare oltre Si vede tra le differenze Tra gli animali Quindi animali che sono nemici Diciamo naturali Che cooperano per sopravvivere L'unione fa la forza Il lavoro di squadra Tutte delle tematiche Che non vengono piazzate lì Per fare la morale Dette proprio in 4 e 4 8 Ma molto naturalizzate Che è secondo me Il metodo più efficace Per mandare dei messaggi Soprattutto ai più piccoli Perché certi messaggi Che poi approfondiremo All'interno di questo film È molto probabile Che se fossero stati espliciti Il problema Non sarebbero stati i bambini Ma sarebbero stati i genitori Che oh mio dio Mio figlio non deve sentire queste cose Mi è piaciuto tantissimo Come il film parla di famiglia Si parla di famiglia allargata Di una famiglia adottiva A tutti gli effetti E di una famiglia anticonvenzionale All'interno del film Ci sarà l'altro A quello che viene discriminato Perché sua madre è un mostro L'essere preso in giro Per i propri genitori Secondo me è un argomento Che noi vedremo sempre più spesso Nei film per i più piccoli E che dovrebbe essere Sempre più presente Perché credo che Sia un argomento importante Che molti bambini affrontano E deve Diciamo essere mandato il messaggio Che non dovrebbe esistere Sempre più Se quando ero piccola Io magari ti prendevano in giro Se eri goffano Se non c'avi la mamma Abominevole Però insomma I bambini Non è che siano Questo candore assoluto Oppure venivi preso in giro Se i tuoi genitori Erano poveri Si vestivano diversamente Se magari erano separati Erano divorziati E cose così O se avevi un padrino E cose così Oggi è probabile Che quelle cose Siano rimaste purtroppo Ma si hanno aggiunte A altre cose È probabile Che un bambino Possa essere preso in giro Perché magari I genitori sono diversi E quindi ha Una famiglia differente Una famiglia magari Multiculturale Con un papà Una mamma Con la pelle diversa Rispetto a quella Dei bambini Di quella zona Oppure ancora Due papà O due mamme È molto probabile Magari abbia solamente Un genitore E È importante Far capire E che Prendere in giro Qualcuno Perché la sua famiglia È diversa È una cosa sbagliata Almeno si tenta Di mandare questo messaggio Ai più piccoli Poi Purtroppo A casa C'erano probabilmente I genitori Che discrimineranno E si spera Che insomma Questi bambini Cresceranno In una maniera sana Senza discriminare Gli altri Però vabbè Rappresentare quindi Una moltitudine di famiglie Secondo me È una cosa importantissima Perché la famiglia Amulino Bianco Là fuori Ce l'hanno in tre persone Altri sono cresciuti Dalle nonne Quelle così Quindi Quelle colà Quindi anche se voi State lì E siete contro Non lo so Le famiglie Di due papà Due mamme Con un bambino Lì fuori Non ci sono famiglie Amulino Bianco Ci saranno bambini Le cui famiglie Sono separate Sono divorziate Il padre se n'è andato E ha abbandonato la madre Ci saranno bambini orfani Ci saranno bambini Che sono cresciuti Dalle nonne Quindi La famiglia Di un unico tipo Non esiste Ed è importante Mandare il messaggio Che ci sono tante famiglie E l'importante È volersi bene E le famiglie Sono quelle unite Da un amore Dove ci si prende Ognuno cura di sé È molto interessante Come film Tratta anche La diversità Dal punto di vista fisico L'essere Diciamo Spezzati In un certo senso Torna L'anatroccolo Qui ha una letta Mi sembra diversa Rispetto all'altra Un po' stile nemo Per capirci E si presta molto Alla lettura Anche per quanto riguarda La disabilità Quindi Parlare di questa cosa E rappresentarla Come qualcosa Sì ok Ce l'hai Però Non ti preoccupare È un altro messaggio Importante Da dare ai bambini Di oggi Secondo me Dove avranno a che fare Con bambini Quetani Amichetti Fratellini Ragazzi Persone Della loro cerchia Che hanno Delle disabilità Delle differenze fisiche E devono capire Che non c'è niente di male Il concetto Di essere diverso E quindi strano È qualcosa Che qui nel film Viene criticato E ti fanno empatizzare Proprio con i diversi Per farti capire Quanto sia sbagliato Sono tutti messaggi Importanti Che secondo me I film per bambini Devono dare Come vi dicevo Secondo me È molto più importante E molto più efficace Quando i film per bambini Soprattutto Abbracciano queste tematiche In maniera Non esplicita Perché È importante anche Quando i film Abbracciano queste tematiche In maniera esplicita Dove ti vedi Proprio lì Due papà E due mamme O altri argomenti Messi così In maniera Proprio leggibile Il punto è Che quel tipo Di rappresentazione Può avere Una chiusura Soprattutto da parte Dei genitori Che magari Non glielo fanno Nemmeno vedere Quel film Ai bambini Queste stesse tematiche Affrontate In una maniera Un pochino così Più vaga Più leggibile Portano comunque L'argomento Lo fanno arrivare Al bambino E i genitori Non si rendono conto Che insomma È andata Queste tematiche Fortunatamente Sono arrivate Al loro figlio E non possono Escluderlo Possono tentarle E ugualmente Di crescere O discriminando Gli altri Però si spera Che magari Questa esperienza Possa far parte Dell'animo Del bambino Il film Secondo me Parla ai genitori Ma parla anche Molto bene Ai bambini Parla molto Del ruolo Genitoriale Di come non sia Bucolico Cioè tutta la parte Come vi dicevo Affrontata da Mamma O possum Che è molto Disincantata Per quanto riguarda La maternità Ci si scherza E è un argomento Che viene rappresentato La genitoria D'età Come una responsabilità Molto pesante Molto difficile Da capire Non come un sentimento Innato ed immediato Come molto spesso La maternità Viene rappresentata Ma come qualcosa Che di volta in volta Devi capire La direzione Da affrontare Rose Per portare a termine Il suo ruolo Ovvero crescere bene L'anatroccolo E quindi portare a termine Il suo compito Dovrà bypassare Il proprio codice Che può essere letto In tante maniere Quindi essere genitori Ognuno a proprio modo Con quello che è La tua esperienza di vita Oppure ancora Non essere il genitore Che credi Di dover essere O spingere tuo figlio A fare quello che credi Che debba fare Ma prefissare degli obiettivi In base A quello che sono Che è la natura Di tuo figlio Quello che è il suo carattere Il suo talento Le sue capacità Adattarsi a quelle Che sono le necessità E della creatura Che andrà a crescere E non obiettivi prefissati Che devono essere forzati Dall'altra parte Qui si parla molto Della sua natura In quanto anatroccolo E robot Secondo me È un discorso Molto interessante Da fare anche ai genitori De rappresentare il figlio Come un elemento a sé stante Un elemento diverso Dalla genitorialità Dove non è Un prolungamento Una forzatura Che debba essere Il suo raggiungimento Della maturità E quindi La fine Della genitorialità Ma proprio Come un individuo A sé stante Che quindi Ha dei suoi bisogni Ha un suo percorso Il percorso Di un anatroccolo È molto differente Rispetto al percorso Di un robot Di un robot Con necessità Differenti E il capire Questa cosa E fare in modo Di essere d'aiuto Per raggiungere Questa cosa È proprio Alla base Di una genitoria Di Tassana E secondo me È molto bello Come messaggio Il ruolo di Rose Qui non è Che si subisce Dal fatto che lui Sia diverso Da per scontato Che sia Un essere umano Differente Come dovrebbero fare Tutti i genitori E usa il suo ruolo Come quello di guida Per aiutarlo A essere chi deve Come sapete Io amo vedere film In lingua originale Questo però È pazzesco Anche doppiato Sinceramente Inizialmente Ero un po' Scettica Di vederlo doppiato Perché In lingua originale La doppiatrice È Lupita Nyong'o Che è bravissima Sia come attrice Sia come doppiatrice Ed è la voce di Rose Però posso dirvi Che la versione italiana È bellissima 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 Mi è piaciuta Tantissimo La tua spettrice italiana È Esther Elisha Ed è bravissima Vi giuro Il livello doppiaggio Lupita Nyong'o Che è praticamente altissimo E lei Io Guardando un po' Non mi ricordavo il nome Ho scoperto Che in un film Che vi voglio consigliare Lei ha recitato Un film che si chiama La Bass Un film italiano Molto molto particolare Io l'avevo visto Quando studiavo La rappresentazione Nel cinema italiano Ed è un film italiano Diverso dal solito Non è di grande budget E roba così Però è un film particolare Che vi dico Guardate un'opportunità Perché noi nel cinema italiano Molto spesso Quando viene inserita Una persona Che non è bianca Il ruolo È sempre veramente Una roba super Stereoedipata Santo cielo Questo invece È molto particolare Sembra così Quei film americani Statunitense E roba così Molto particolare Io ve lo consiglio Per vedere Che il cinema italiano Può essere pure Una roba differente Lei doppia Ross Ed è bravissima 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 Lacrimone Brava 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 La Volpe Invece è doppiato Da un attore Alessandro Roia Io vi dico A me sinceramente Inizialmente Non aveva convinto Appena l'ho sentito Ho sentito Ecco Questo è il personaggio famoso Che doppia Il personaggio Poi dopo ci fate Cioè dopo nemmeno 5 minuti Già vi siete abituati Però all'inizio È un po' Un po' così A orecchio Poi io non ci capisco niente Del doppiaggio Quindi magari Non lo so Scusate La mia Non Non perfezione Dell'audio Non lo so Quindi io vi consiglio Di vederlo Perché è bello 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 Vi piacerà Una cosa bella Da vedere Con i bambini Davvero molto Molto carino E esteticamente Qualitativamente Bello 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 Sotto tutti gli aspetti Però vi voglio parlare Di alcune cose Per quanto riguarda La parte spoiler Quindi non vi voglio Fare spoiler E quindi Se volete vedere il film Guardatelo Noi ci vediamo dopo Magari se siete rimasti Fin qui Lasciatemi qui sotto Un emoji con un robot Però vorrei parlarvi Della parte spoiler Quindi se volete Vederla Oppure avete già visto Il film Rimaniamo insieme Perché tra 3 2 1 Iniziano gli spoiler Un'altra cosa Che mi è piaciuta Tantissimo del film È il messaggio Verso il finale E io ho finito il film Con lacrimoni Proprio così È molto carino Come durante il film C'è proprio Una reciprocità Diciamo dei ruoli Cioè Rose Che inizialmente Si prende cura Di tutti gli animali Quindi li va a salvare Durante l'inverno rigido E poi successivamente Gli animali Vanno a salvare Rose Quando questa navicella Spaziale Quindi dal mondo naturale Arriva a qualcosa Di futuristico Che quindi diventa Una minaccia C'è un altro robot Che anziché avere Delle sembianze Molto più simili All'umanità Qualcosa che sembra Qua di un polipo Roba così Che quindi È estremamente pericoloso Vuole prendere Rose E praticamente Cancellarle La memoria A cancellarle Tutti i ricordi In un certo senso Ci sono proprio Quei toni Da scienziato pazzo Che vuole fare Gli esperimenti C'è veramente Della paura Ma è giusto Ecco È molto bello Come c'è Quei senso di squadra Che torna Per salvare un amico In difficoltà E c'è anche Il senso di collettività Da un verso E dall'altro Sia per quanto riguarda Salvare Rose Ma anche successivamente Da parte di Rose Rose capisce Che purtroppo Lei È un pericolo Se rimane lì Già quando sono andate A prenderla L'hanno distrutto Praticamente Quasi tutta la foresta E molti animali Sono feriti Insomma Durante tutta questa cosa Quindi per Metterli al sicuro Lei deve tornare Deve sacrificarsi Diciamo Per tornare Al centro di commando Tanto capisce Che l'amore Quello che prova È oltre Il Diciamo L'hardware Il software E quindi anche se Le cancelleranno tutto Lei si ricorderà Sempre Di quello che prova E ha provato Per l'anatroccolo Per il figlio Diciamo Questa è una visione Molto interessante C'è proprio questa Contrapposizione Tra questa città futuristica E la natura La città futuristica Ovviamente vista Come bellissima Inizialmente Ma come un luogo di morte Dove Sparano le anatre Fanno del male alle persone Semplicemente per coltivare Queste cose sotto le serre Quando in realtà C'è la natura Che tutto funziona Ed è tutto bellissimo Lì è all'aria aperta Dall'altra parte C'è la devastazione In cui lasciano L'isola Quando arrivano Per prendere Rose E Rose che si deve Piegare a questa cosa Sacrificare Per salvare Tutti gli altri Privare quindi Dell'affetto Dell'amore Per andare lì In un certo senso Questo campo di lavoro Per robot È molto triste Ma molto bello Vedere come si ricorda Poi successivamente Dell'anatroccolo Lui ritorna lì E si salutano Ogni volta che vanno Per l'inverno Per la migrazione È bello Però allo stesso tempo È estremamente triste Realistico Lei che è costretta Un po' come i genitori Che devono andare Al lavoro E non stare con i figli È costretta In questo contesto Di depersonalizzazione Che ricorda proprio Il lavoro in fabbrica Molto molto carino Molto molto bello A me ha completamente Lì sotto il cuore Bellissimo Bello 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 Ma questo era tutto Voi fatemi sapere Se vi piacerà il film Se piacerà Se avete bambini Fratellini E roba così Se gli piace Il film Fatemi sapere Se gli è piaciuto o meno Il loro feedback Voi fatemi sapere Se è piaciuto a voi Se vi siete rivisti In questa cosa Se vi è emozionato Ieri Una valle di lacrime E spero di avervi dato Un suggerimento utile Nel caso fatemi sapere E se siete rimasti fin qui Lasciatemi qui sotto Per supportare il canale Un emoji con la volpe Grazie mille ancora E noi ci vediamo Al prossimo video Grazie mille per il sostenito Ciao